Se devi scegliere una cosa o fai una scelta per paura o fai una scelta per istinto e tante volte la paura si traveste da istinto e l'istinto ha sempre ragione, cioè se tu fai una scelta per istinto andrà bene ed è il tuo percorso, se la fai per paura invece ti porta indietro Ciao Giulia! Ciao! Che fai? Provo a giocare con le Huawei che però non vogliono giocare con me perché fa freddo, è tutto sporco e di fango e loro vogliono solo andare a casa purtroppo Sono in protesta quindi Abbastanza quindi un po' disagio in questo momento Quando hai capito che utilizzare i social ti avrebbe aiutato anche a livello lavorativo? Quando sono le aziende che cominciano a venire da te e appunto ti chiedono di collaborare con loro cominci anche tu a fare le tue valutazioni e a capire che magari è una cosa che ha più valore di quello che poteva sembrare qualche anno fa Io penso che chi ha questa voglia e spontaneità di parlare al telefono dentro di sé è un po' entertainer Cioè sei esibizionista un po' Lo ammettiamo questo Beh sì, chi ha voglia di fare queste cose gli piace essere al centro dell'attenzione Senti, vuoi essere sfidata e magari battuta a un gioco bellissimo che ha portato? Ok, odio perdere però va bene Ed è un sacco che non gioca questo gioco Non ti preoccupare, tanto vincerò io Giulia senti la tua vita è cambiata molto da quando sei diventata un personaggio pubblico comunque No, non tanto perché comunque alla fine anche se ti seguono 400.000 persone sembrano tantissime però non è che le incontri sempre e quindi non hai la percezione di essere conosciuta Hai iniziato questa nuova avventura in tv con TGIG Thank God it's Giulia Ho visto una cosa che è iniziata dalle stories diventare un format che ho scritto io, che ho inventato io e cioè sono super fiera di questa cosa specialmente sia per il percorso che ha fatto TGIG ma un'altra cosa che mi rende molto fiera di questo programma è che veramente ricevo tantissimi direct di ragazze che mi seguono che dicono senza di te non l'avrei capita questa cosa Che consiglio daresti alle ragazze che ci seguono? Allora tante persone mi chiedono come si fa a diventare influencer Ognuno di noi deve fare il suo percorso Se poi tu vuoi comunicare quel percorso e vuoi fare vedere com'è agli altri puoi farlo Il mio obiettivo finale è di fare un talk show Intanto lo sto raccontando su Instagram Una ragazza può voler diventare una veterinaria e usare i social come mezzo super potente per descrivere come è quel mondo, per parlare di delle attività che fa, di qualsiasi cosa Quindi l'obiettivo non è diventare un influencer ma se te la senti raccontare il tuo percorso Ma deve esserci un percorso A me non sembra che tu possa vincere però vediamo Comunque a me piacerebbe Ho vinto! Ma dove? E dov'è? Odio questo gioco Com'è che si fa a togliere tutto e far cadere? Dai lascialo così così è una manifestazione della mia vittoria Ma non ci credo che non l'ho visto Hai visto? Progetti per il futuro sicuramente non inizierò una carriera come campionessa di Forza 4 Ciao Frida!